Centri di colleghi, care colleghe, buonasera, come dire, rieccoci, inizio con una citazione colta di Brecht, diceva, beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, adattandola alla situazione corrente, beati i popoli e i colleghi che non hanno bisogno di video, ma ahimè vi toccano, spero non ne abbiate bisogno, cioè che abbiate già acquisito tutta la scienza che ci serve in autonomia. Per quelli che per qualche motivo non l'abbiano fatto, ancora qua, grazie sul PL e ad Appler per raccontarvi l'ultima novità. Quale novità? Il decreto legge 172 emesso ieri, 18 dicembre, entrato in vigore a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oggi, 19 dicembre, così fissiamo anche la data del video. Un decreto che regolamenta tutto il periodo natalizio e che ci rende la vita particolarmente complicata e anche un po' uggiosa quando si tratta di raccontare quello che adesso vedremo. Allora, partiamo subito. Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 si applicano le regole previste per le zone gialle, quindi per i divieti previsti per la zona gialla o per le zone arancioni nel caso in cui ci sia qualche regione arancione, cioè continua ad applicarsi quello che è stato applicato fino ad oggi in base al DPCM del 3 dicembre e del decreto legge 158. Perché? Perché il decreto legge 172, pur entrato in vigore oggi, come dicevo, si applica comunque a partire dal 24 dicembre, regolamenta il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Per cui al momento, fino al 23 compreso, quindi 24 escluso, trova applicazione la normativa vigente che è il decreto legge 158 e il DPCM 3 dicembre 2020. Iniziamo subito a vedere. Allora, intanto, dal 21 dicembre, quindi appunto da prima del 24 e fino a 6 gennaio è vietato nell'ambito del territorio nazionale ogni spostamento in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni province autonome. Quindi gli spostamenti tra regioni non sono autorizzati, ovviamente salvo i soliti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Questo non lo ripeterò tutte le volte, ma questi motivi ovviamente facoltizzano, con un termine brutto, però gli spostamenti anche nei giorni di maggiore restrizione. Così come rimane sempre confermato la possibilità di rientrare presso la residenza, il domicilio o l'abitazione. Quindi queste facoltà rimangono sempre comunque in vigore. Ora veniamo a cosa ha stabilito il decreto legge 172. In particolare nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio. Quali sono? Giusto, vi faccio un elenco perché è importante, credo. Allora, la vigilia giovedì 24, ovviamente Natale, Santo Stefano, domenica 27, giovedì 31 dicembre, venerdì 1 gennaio, sabato 2 gennaio, domenica 3 gennaio, martedì 5 e mercoledì 6. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dieci giornate, non poco, perché ovviamente i prefestivi sono tutti quei giorni che appunto precedono i festivi, che in questo caso appunto non sono poco. Allora, in questi giorni, in questi dieci giorni, sull'intero territorio nazionale si applicano le misure restrittive previste per le zone rosse, a prescindere dal colore di partenza. Diciamo così, si potrebbero definire dei giorni rossi, perché tutto il territorio nazionale diventa zona rossa. Questo cosa significa? Semplicemente che è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, non a piedi, cioè se faccio jogging posso uscire dal mio comune, altrimenti con mezzi di trasporto pubblici o privati sono vietati gli spostamenti da un comune diverso da quello di residenza, per domicilio o abitazione, fatte salve le solite comprovate esigenze che abbiamo detto prima. Tra le quali anche le situazioni di necessità, vabbè, quelle lo sappiamo, oppure per svolgere attività o soffrire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune appunto di residenza, domicilio o abitazione. Il decreto legge 172 però introduce una novità, ovvero la possibilità di spostarsi per una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 verso una sola abitazione, sempre all'interno della regione, quindi non si può comunque uscire dalla regione, ribadisco una sola volta al giorno, una sola abitazione, periodo temporale tra le 5 e le 22, con anche il limite che è possibile questo spostamento nei limiti di due persone, ovviamente se sono conviventi il limite non si pone, di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi. Le due persone possono essere accompagnate da tutti i figli infra 14 anni, figli o comunque minori di cui si abbia la potestà genitoriale e i disabili o non autosufficienti conviventi. Quindi due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, ovviamente nella casa che ospita. Che cosa vuol dire? Che io posso spostarmi ma solo per recarmi presso una abitazione. Non posso dire, per esempio, avanzare come motivazione, mi andava di andare a fare un giro, di andare a vedere il tramonto in collina o di andare a vedere il tramonto al mare, ok? Posso spostarmi soltanto in direzione, avendo come destinazione una privata dimora, una abitazione. Quali sono i divieti per le attività commerciali in zona rossa? Chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e le altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli, florovivaistici, tabacchi ed edicole. Comunque devono chiudere alle 21, che comunque sì, alle 21 devono chiudere. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività ai mercati, salvo ancora una volta per la vendita dei suoi generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte appunto edicoli, tabaccai, farmacie, parafarmacie che ormai conosciamo. Per la ristorazione ammessa solo la consegna a domicilio, ok? Mentre fino alle 22 la ristorazione per asporto, con il solito divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Sono consentiti lavanderie, speriamo di non averne bisogno, servizi di pompe funebre e attività connesse, i barbieri e i parrocchieri. Questo per quanto riguarda le giornate rosse, festive e prefestive. Nelle giornate non festivo-prefestive, però comprese nel periodo che abbiamo visto, quindi dal 24 al 6 e quindi nelle giornate di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e lunedì 4, le prescrizioni di vieti sono quelle previsti per le zone arancioni. Quindi diciamo che questi potrebbero essere definiti come dei giorni arancioni. Ancora una volta fino alle 21 sono aperti gli esercizi commerciali al dettaglio, in questo caso senza vincolo di tipologia di prodotti. Per le attività di somministrazione rimane quello che abbiamo detto prima, quindi sospensione delle attività ma consegne a domicilio senza limiti e asporto fino alle 22. In queste giornate rimangono i divieti appunto zona arancione, quindi vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblico privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione, soldo, le solite comprovate esigenze che abbiamo visto prima, ma anche qui c'è una novità, sono consentiti gli spostamenti comuni dai comuni, comuni che abbiano una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per recarsi in un altro comune che abbia una distanza non superiore a 30 chilometri dal confine del comune di partenza. Sono comunque esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Che cosa significa? I 30 chilometri intanto non vanno considerati dall'abitazione, quindi da dove io abito, non calcolo da lì i 30 chilometri ma li calcolo dal confine comunale. ovviamente pensate a certi comuni, per esempio di montagna, di collina, molto estesi con bassissima densità di popolazione, cioè io abito magari nel centro del paesino di sto paese e magari non dico 30 chilometri, magari 20 chilometri li devo fare semplicemente per arrivare al confine del mio comune, quindi di fatto non potrei spostarmi. Quindi i 30 chilometri si contano dal confine del comune di partenza, ma non ci si può spostare verso i capoluoghi di provincia, quindi si può andare in qualunque altro comune, entro ribadisco i 30 chilometri dal confine, anche di popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ok, ma non si può andare nel capoluogo di provincia. In questo caso qual è la differenza? Perché bisogna coordinare con quello che abbiamo detto prima. in questo caso ci si può spostare senza uno specifico motivo, cioè mentre nel momento in cui io sono in zona rossa mi posso spostare, ma lo posso fare solo per andare presso un'altra abitazione una sola volta, ok? In questo caso posso spostarmi per andare in un altro comune, ma non ho un motivo specifico per doverlo fare, ok? Quindi lo posso fare, posso spostarmi, punto, non sono obbligato ad avere una meta. distinzione forse è un po' di lana caprina, però insomma di fatto questo è. Viene ribadito infine l'apparato sanzionatorio, ovvero il mancato rispetto del decreto legge 172 del 18 di novembre viene punito con la solita sanzione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 19 convertito nella legge 35 con una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro con il solito beneficio della riduzione a 280 nel caso di pagamento dentro cinque giorni. Se si usano i mezzi di trasporto cos'è da 500 adesso non mi ricordo ma insomma ve li andate a vedere e i 353 è qualcosa ridotti entro cinque giorni. Insomma l'apparato sanzionatorio ormai ormai lo conosciamo. Questo è quanto. Spero di non avervi complicato troppo la vita perché credetemi è... Comincio ad avere... ad accusare un po' di stanchezza anch'io perché mi si sopropongono i dpcm, le norme, i decreto... Insomma sto diventando... sta diventando veramente difficile cercare a riuscire a fornirvi uno strumento valido. Abbiate pazienza. Chiedo Venia se ho sbagliato qualcosa. Non credo, spero di no. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti, a tutti i colleghi ma anche a tutti gli amici e conoscenti. Voglio ringraziare in particolare le mie colleghe d'ufficio che sono veramente sempre deliziose. Voglio ringraziare in particolare le colleghe che hanno avuto l'idea e i colleghi del settore dell'ufficio di polizia amministrativa. Non faccio nomi perché sono comunque un bel gruppetto, ma loro sanno chi sono, lavorano nel mio stesso piano, a pochi metri di distanza, che mi hanno commosso l'altro giorno con una cortesia del tutto inaspettata ed esorbitante rispetto ai miei meriti. Quindi davvero grazie a questi colleghi deliziosi. Ne approfitto anche per fare gli auguri, l'avevo accennato in un video precedente, ma adesso posso ufficializzarlo, all'amico e collega Nicola Rossi di Ravenna, che inizierà l'anno nuovo da funzionario di Polizia Locale, perché aveva vinto il concorso, ma fino alla firma del contratto non voleva ufficializzarlo. Il contratto adesso l'ha firmato. Un grandissimo abbraccio, i miei complimenti, tra l'altro Ravenna è un ricettacolo di amici e di persone veramente splendide, come il buon Nicola, la sua compagna, di cui non faccio il nome così non violiamo la privacy, insomma, e di un altro amico fantastico come Daniele del Fabro. Quindi complimenti e auguri Nicola. Ancora buone feste a tutti, spero di non disturbarvi più con i miei video. Chiudo ancora con un buon Natale a Loris e Sara, che hanno avuto una meravigliosa bambina, e anche al collega Nado di Parma, che è diventato anche lui in questi giorni nonno per la seconda volta. Quindi anche nella disgrazia del Covid la vita va avanti e quindi è bene ed è giusto che sia così, che sia un santo Natale per tutti. Alla prossima!